Si mette oggi? No, oggi quella tenta di cazzo deve andare a Milano, cercare degli appuntamenti. Torna stasera e si mette la domanda. Ah sì? Sì. Ma sei sicuro? Beh, questo è quello di stanotte a Luna, ecco. Cazzo andiamo qua. E oggi si verrisca che se ne vada un altro due o tre, quindi... Per quello io vorrei occupare meglio se lo faccio stamattina, perché se lo fa stasera, ogni ora che passa, più debba. E dipende da... da quel che... Ma è sul senato invece? Adesso tiene, ma... No, lo so, per adesso tiene, però dipende da cosa vuol far lui, perché io non riesco a capire cosa vuol far lui. Propone l'etca. Ah, se lui può passare dall'etca, secondo me l'unica soluzione è per tenere in piedi la baracca. Lui propone l'etca, ma lui non lo accetta. L'Udc non lo accetta? Perché l'Udc vuole anche il PD e noi il PD non possiamo accettarlo. Ma allora non gli conviene chiedere un voto di fiducia al senato, verificare se vi ha i numeri e poi rendere il percorso obbligato? È più complesso, perché ogni ora che passa è peggio, Franco. Cioè doveva farlo già stamattina, secondo tutti noi, cioè non andare a Milano. Andava stamattina al presidenza, così tagliava la testa. Adesso nel prossimo anno vedrai che ne escono altri due, tre, quattro, cioè poi... Ma perché che aveva a Milano? Che cazzo ne so! Cioè cose sue! Che cazzo ne so!